18 febbraio 1564. Muore a Roma, ha 89 anni, Michelangelo Buonarroti. Nato nel 1475, dal 1490 inizia a frequentare Palazzo Medici, entrando in contatto con figure di spicco della cultura dell'epoca, come Poliziano, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. A Roma vive un rapporto burrascoso con Papa Giulio II, che gli commissiona il proprio monumento funebre, terminato dopo 40 anni, e la Cappella Sistina. Nel 1547 inizia i lavori della sua Basilica di San Pietro e ne progetta la cupola. Le opere di Michelangelo, artista geniale e requieto, sono considerate fra le più grandi espresse dall'arte occidentale.